Con il negozio ci troviamo in via Matteotti al numero 7, ci siamo tutti i giorni dalle 10 alle 13, dalle 15 e 30 alle 19 e 30. Come dicevamo tutte scarpe personalizzate, pezzi unici, ogni cliente può creare la sua scarpa in base al proprio gusto. Oltre alle scarpe possiamo personalizzare anche le borse, ovviamente possono essere abbinate alla calzatura in base al gusto della cliente. Con il proseguo della stagione avremo anche un discorso di giubbotteria e di altre cose molto carine, sempre ovviamente tutti i pezzi unici e personalizzati. È un negozio diverso, abbiamo cercato di creare una tipologia di scarpa personalizzata, più donna in questo momento che uomo. Ci sono i vari modelli tra le quali la superstar, la Stan Smith e l'onstar da uomo invece delle aida sportive. Il sabato facciamo l'orario continuato e la domenica è il nostro giorno di riposo, vi aspettiamo.